La libreria dei podcast della Corte Costituzionale L'articolo 4 del Trattato dell'Unione affianca al rispetto dell'uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati, che è il fondamento assiologico del principio del primato, il rispetto dell'identità nazionale. Questo connubio sta a significare la ricerca di un punto di equilibrio tra uniformità e rispetto del pluralismo, secondo una logica che McCarmick definirebbe eterarchica e non gerarchica. La tensione al pluralismo ha portato per ritenere che l'identità nazionale dovesse assorbire dall'interno del sistema le tensioni che avevano alimentato dall'esterno la teoria dei controllimiti. Non di meno l'identità nazionale non coincide con i controllimiti, proprio perché deve essere ricostruita come categoria appartenente al sistema dell'Unione e che deve coesistere con il primato. Per converso sono state proprio le interpretazioni del suo contenuto e della sua funzione, elaborate secondo prospettive unilaterali e autoreferenziali a livello nazionale che hanno generato scetticismi nei confronti di questo paradigma. In particolare sul piano continutistico si collocano fuori dal sistema dell'Unione innanzitutto concezioni dell'identità nazionale di riminiscenza schmittiana sganciate dalla fonte costituzionale. E questo è contraddetto dal testo dell'articolo 4 che fa riferimento esplicitamente alla struttura fondamentale politica e costituzionale degli Stati. Questa espressione è un endiadi nella quale la Costituzione è un dato imprescindibile perché allontana il rischio di suggestioni alimentate da contingenze politiche. Parimenti fuoriescono dai confini che traccia l'ordinamento dell'Unione concezioni dell'identità nazionale che fanno valere principi estranei allo Stato di diritto. In origine questo era stato proprio codificato dall'articolo F del Trattato di Maastricht dove si diceva che l'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri i cui sistemi di governo siano fondati sui principi della democrazia. Ma questo è stato comunque riaffermato dalla Corte di Giustizia. In un gruppo di sentenze emanate fra il 2019 e il 2022 già ricordate dal Presidente, Commissione contro Polonia, Eurobox Promotion, Ungheria e Polonia contro Parlamento e Consiglio, RS del 2022, la Corte ha elaborato un concetto di identità costituzionale europea fondata sull'articolo 2 sui principi dello Stato di diritto come limite intrinseco al concetto di identità nazionale perché il rispetto dei principi dello Stato di diritto è una condizione di adesione degli Stati membri e allora segna la linea di confine fra uso o abuso della categoria dell'identità nazionale. A questo punto si delinano i tratti generalissimi dell'identità nazionale come categoria del sistema dell'Unione. Deve trattarsi di una nozione che si ricava dall'interpretazione di fonti costituzionali nazionali che devono essere conformi ai principi della democrazia e dello Stato di diritto. Questo non vuol dire che ogni profilo dell'identità costituzionale sia un tratto dell'identità nazionale ma che nessun tratto dell'identità nazionale può essere fatto valere fuori da questo perimetro. Venendo ora al piano funzionale mi pare che non sia riconducibile al sistema dell'Unione la ricostruzione un pochino velatamente sottesa ai proclami del Lisbon Urteil ma poi fatta valere da altri ordinamenti che sposta sull'identità nazionale la prospettiva unilaterale e condizionale dei controlimiti, ritenendo che uno Stato possa in nome di principi nazionali non emendabili porre una condizione al diritto dell'Unione. E' evidente che l'incorporazione nel sistema di altrettante condizioni quanti sono gli Stati nazionali si pone in aperto contrasto con il principio di uguaglianza degli Stati membri. E questo la Corte di Giustizia nella già citata sentenza RS lo ha detto espressamente. La clausola condizionale non ha né lo scopo né l'effetto di autorizzare una Corte Costituzionale nazionale a disapplicare una norma dell'Unione con la motivazione che questa norma non rispetta l'identità nazionale come definita dalla Corte Costituzionale nazionale. E allora esclusa l'idea per cui nell'identità nazionale si sintetizzino tante clausole condizionali, scusa del linguaggio un po' privatistico, si delineano invece due volti possibili dell'identità nazionale come categoria del sistema dell'Unione. Da un lato vi è un'identità nazionale dotata di una forza centrifuga perché fa valere le ragioni del pluralismo ma che può stare dentro il paradigma dell'articolo 4 nei limiti in cui si dimostri compatibile con il primato. cittadino. E poi vi è un'identità nazionale che invece è attratta dalla spinta centripeta dell'uniformità perché conforme a quella degli altri Stati membri e rientra nel paradigma delle tradizioni costituzionali comuni di cui ho l'articolo 6. La prima prospettiva funzionale è quella che più interroga il sistema sui presupposti che rendono il pluralismo compatibile con il primato. Questi presupposti, un po' schematicamente, li possiamo ricondurre a condizioni di natura procedimentale e sostanziale. Sul piano procedimentale, se è naturale che siano le corti nazionali a specificare che una certa interpretazione, un certo bilanciamento di interessi identificano un tratto dell'identità nazionale, parimente è imprescindibile che sia la corte di giustizia a decidere se vi sia compatibilità con il primato, il che ha portato ad affermare l'obbligatorietà del rinvio pregiudiziale. Per la verità, al rinvio pregiudiziale avevano fatto già ricorso Bundesverfassungsgericht nel caso Mangold e la corte costituzionale italiana con il caso Taricco, ma la corte di giustizia nella sentenza RS ha detto espressamente un obbligo, deve sollevare rinvio. Perché? In nome del principio di leale collaborazione, anche perché si pone un dubbio di validità, no? Probabilmente a rispetto con lo Stato. Ma le corti costituzionali nazionali su cosa devono motivare? Solo sull'identità nazionale? Beh, direi di no, la vicenda Taricco lo insegna. Devono anche motivare sulla compatibilità con il primato e con il principio d'uguaglianza. Questo sia perché le corti costituzionali sono anche loro corti dell'Unione, cui sta a cuore l'Unione, e poi perché l'uguaglianza fra gli stati membri è interesse degli stessi stati nazionali. Nella nostra Costituzione, all'articolo 11, si dice che lo Stato può limitare la sua sovranità in condizioni di parità con gli altri stati. A questo punto l'obbligo di rinvio pregiudiziale e questo duplice onere di motivazione che dovevano le corti portare alla corte di giustizia, crea delle condizioni nel solco della leale collaborazione che c'è se stessa nell'articolo 4 per quella che chiamerei una concretizzazione, una concretisierung dialogica delle condizioni sostanziali che rendono compatibile l'identità nazionale che fa valere il pluralismo con il principio del primato. A me sembra che proprio questo metodo di concretizzazione nel confronto fra le corti abbia contribuito a rendere più flessibili nel tempo le condizioni sostanziali di compatibilità con il primato dettate dalla corte di giustizia a partire dal caso Franson e dal caso Melloni. La prima condizione è costituita dalla garanzia che l'identità nazionale non infici, non intacchi la funzionalità e l'effettività dell'Unione. Mi sembra che sia stata resa meno rigida in un duplice senso. Da un lato, come sembra suggerire proprio la vicenda Taricco, nel senso che il rispetto degli impegni assunti nei confronti dell'Unione può talora conseguirsi anche in un modo diverso rispetto ad altri Stati, purché con uguale efficacia ed effettività. Da un altro lato, nel senso che anche a fronte di vincoli stringenti che non pongono alternativi, come gli impegni assunti con il mandato di arresto europeo, nel senso di ammettere deroghe se si profila il pericolo di un attentato grave ai diritti fondamentali della persona, come il rischio di trattamenti inumani e degradanti, che è emerso come noto nel caso Araniosi-Cadararo e nel caso LM. Quanto alla seconda condizione sostanziale, che viene identificata nell'esigenza che l'identità nazionale non abbassi lo standard di tutela riconosciuto dalla Corte di Giustizia e i diritti tutelati dalla Corte, anche questo mi sembra che sia un criterio che ha dimostrato di non poter operare rigidamente come pura prevalenza, per due ragioni, intanto perché deve tener conto di quello che dispone l'articolo 53 della Carta, ma soprattutto perché le ragioni identitarie riguardano per lo più un diverso bilanciamento di interessi e dunque per un verso magari si abbassa la tutela di alcuni diritti, ma per un altro verso si innalza quello di altri che di solito sono anch'essi riconosciuti dalla Carta. E allora credo che la questione non possa che porsi nell'ottica di un bilanciamento di interessi che si costruisce però nel dialogo, che pondere la forza delle ragioni identitarie nazionali che tendono in quel contesto a prediligere un interesse rispetto alla forza delle ragioni del primato che si riverberano sull'interesse contropposto, tenendo conto chiaramente anche del principio di proporzionalità, come sottolinea l'Avvocato Generale nelle conclusioni al caso Zilevic. Chiaramente le ragioni identitarie a questo punto richiedono una specificazione ulteriore rispetto al fatto di derivare da interpretazione delle Costituzioni conforme allo stato di diritto. Deve trattarsi di profili significativi della nazione, il che per un verso evoca la rilevanza in concreto di quell'aspetto per la nazione. L'articolo 4 dice una natura fondamentale. Questo a mio parere sommesso non implica necessariamente la non emendabilità che di solito riguarda la previsione in astratto di un principio più che la sua interpretazione. Proprio la sua rilevanza in concreto. E da un altro lato è chiaro che il tratto identificativo richiama anche particolari contenuti che hanno questa valenza identificativa. In particolare nel processo che c'è stato, nell'evoluzione di questa concretizzazione dialogica, mi sembra che un forte rilievo identitario sia emerso in tre gruppi di casi. Innanzitutto con riferimento a esigenze assiologiche, cioè legate a diritti e a principi fondamentali attenenti alla persona. Si pensi al modo di intendere la dignità personale nel caso Omega, al modo di ritenere implicato il principio di legalità nella vicenda taricco, diritti e principi prevalsi rispetto a ragioni patrimoniali, la libera circolazione o anche la riscossione dell'IVA salva la garanzia della sua tutela effettiva che invece deve essere assicurata. Ancora profili dei diritti fortemente identitari si sono palesati con riguardo ad aspetti legati al tessuto culturale di una nazione, che tengono alla bioetica, penso al caso Grogan, alla lingua, il caso Rudevich, Verdin e Verdin, il caso Lass, già richiamato, e ora è in esame il caso Zilevic. Ho il diritto di famiglia, ma fermo restando che la loro implicazione, come diceva il Presidente prima, deve essere sempre in concreto di rilievo. Nel caso Coleman non veniva in gioco in sé l'istituto del matrimonio, non veniva imposto il matrimonio delle persone del stesso sesso, ma una richiesta di permesso di soggiorno e allora prevalso l'interesse dell'Unione Europea, della libertà di circolazione, dove c'era anche una valenza personalistica che lo rafforzava. E ancora profili identitari forti sono stati riconosciuti in relazione alla forma di governo, ma di nuovo il loro peso è variato in funzione della diversa rilevanza in concreto nei diversi sistemi nazionali e questo emerge bene dal confronto fra il caso Sein Wittgenstein e il caso Burgender von Wurferdorf. Al contrario, a me sembra che dalle vicende giurisprudenziali emergano delle ragioni identitarie deboli. Innanzitutto quando sono implicati principi costituzionali, ma che a ben vedere non hanno un particolare significato identitario. Mi riferisco, una vicenda italiana comunque, per esempio al fatto di dover accedere alle professioni per concorso, è scritto nell'articolo 33 del caso Torresi, ma forse non è propriamente un profilo identitario della nazione. E poi a me pare che non sia, diciamo, corretto comunque che sia debole il riferimento all'identità nazionale quando si fanno valere i principi importantissimi e generalissimi come il principio di democraticità, ma sono evocati in maniera del tutto generica e ovviamente mi riferisco a casi Gauweiler e Weiss. E infine ovviamente è un bilanciamento per cui bisogna vedere anche quant'è il peso delle ragioni dal lato identitario dell'Unione. E qui non posso non richiamare la vicenda danese, il caso Ayos a cui si è opposto l'Ujestred danese, che però ha visto, a mio parere, correttamente soccombere il richiamo un pochino anche lì generico alla certezza del diritto e all'affidamento rispetto ad un principio fortemente identitario per l'Unione e di grande spessore assiologico come il principio di non discriminazione. In definitiva, la possibilità di definire, anche attraverso i chiaroscuri di alcune vicende giurisprudenziali, i contenuti dell'identità nazionale come categoria interna al sistema dell'Unione e la possibilità di individuare le condizioni procedimentali e sostanziali che rendono la sua funzione, volta a tutelare il pluralismo nell'Unione, compatibile con il primato, dimostrano che l'identità nazionale non è un paradigma né pericoloso né naif. Al contrario, l'identità nazionale dimostra tutta la flessibilità e la ricchezza di una clausola generale, che ha di specifico il fatto di richiedere un processo di concretisierung nel rapporto con il principio del primato affidato alla leale collaborazione fra corti di giustizia e corti costituzionali nazionali. Allora, non si tratta di rinunciare alla categoria dell'identità nazionale per sostituirla con un'altra che, come dice Weiler, vorrebbe gli stessi problemi. Piuttosto occorre, da un lato, riconoscere dentro il perimetro dell'articolo 4 l'importanza di un limitato spazio di confronto anche dialettico, ma nella consapevolezza, se mi consentite la metafora, che quello fra l'Unione e gli Stati membri è un matrimonio che si costruisce insieme in cui nessuno deve tirare la corda troppo o ingiustificatamente se non si vuole la rottora. E, da un altro lato, favorire il processo di avvicinamento fra i sistemi costituzionali nazionali alimentando l'interpretazione della carta attraverso le tradizioni costituzionali comuni. Più le corti costituzionali nazionali, anche grazie alla doppia pregiudizialità, sottopongono alla Corte, come si legge in tante sentenze, devo dire, degli ultimi anni della Corte Costituzionale italiana, argomenti capaci di arricchire l'interpretazione della carta, più la carta intanto prende vita attraverso il fermento sociale degli Stati nazionali, le carte sono vive, devono alimentarsi dal basso, e più si riducono anche le divergenze interpretative sui medesimi principi e dunque penso che si vada poi anche a restringere lo spazio delle identità nazionali che tendono a diversificarsi. Al tempo stesso questa convergenza delle tradizioni, rispetto a profili invece questi sì ritenuti non emendabili, va ad alimentare quel paradigma dell'identità costituzionale europea che la Corte di Giustizia ha opposto agli abusi dell'identità nazionale, facendo forza anche sul supporto, sulla condivisione da parte degli Stati membri. Dunque concludo dicendo che se un tempo le corti costituzionali nazionali ergevano i controlimiti a difesa del personalismo, che non era ancora penetrato nel sistema dell'Unione, oggi che il cuore del personalismo è entrato in Europa, l'identità nazionale non è la sede di uno scontro fra le viatani, ma è il volto di un pluralismo che è capace di arricchire il sistema complesso dell'Unione, senza inficiare il valore del primato, che è divenuto esso stesso strumento di garanzia dello stato di diritto e del personalismo, contro il fluttuare delle politiche nazionali, contro le minacce dei populismi che non risparmiano nessuna nazione. Ed è contro queste insidie che credo che l'Europa democratica non possa che fondare la sua forza sul suo dalizio fra corti di giustizia e corti costituzionali nazionali. Grazie.